No Dopo tantissimo tempo Finalmente posso ridire Bella a tutti Siamo tornati L'estate noi non facciamo tanti video Non abbiamo voglia di fare video di sé Ci sono le vacanze Però adesso che è iniziata La scuola ci Divertiremo un sacco a fare i video E questo che è un po' un'anticipazione Che uso per dire Due cose velocissime La prima cosa è che Non siamo morti E adesso vi seranno regolarmente i video Per i nostri super 1300 iscritti La seconda cosa è che La settimana prossima Ci sarà il Luca Comics Saremo a Luca Comics? Sì, io sarò tutti i giorni Perché sono con degli amici Francesco è lì Sabato primo novembre Quindi significa che Se qualcuno Ci segue E Dito che esattamente È a Luca Comics Ce lo fa sapere Qui sotto Che se siete Ma non ne so Anche siete dieci Non me ne frega Ci manderà Ci diamo un incontro Ci diamo qui A quest'ora E facciamo due foto Sì Bene Detto questo Andiamo a vedere il video Allora ragazzi Il prossimo vi Allora abbiamo deciso di fare Una nuova serie E E tipo Allora il prossimo video Noi introdurremo Un grande schermo Continua Io voglio parlare Questo è un grande schermo E in cui Torcicollo Non mi riesce a girare Ecco Un grande schermo verde A cui In cui sostituiremo Lo spunto Ecco E Utilizzeremo Uno stabilizzatore Di videocamera E una grande luce Che metteremo Da quella parte Oh cazzo Aspetta 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 Allora Poi proporremo Una nuova serie Di cose Che possiamo Costruire In casa Ed è stata proposta Quest'idea Da Riccardo Zanotto Ecco Gatto Ci devo finire Dicolorarlo Lui ha detto Aspetta Aspetta Puzia Ferma Ferma Gatta Allora Praticamente Questi Ha detto Di non essere Nominato Molimentanamente Ho il piede Il rigidito Un trampettino E niente Ci vediamo Al prossimo video Sto guardando Una porta Che si sta A prendere Chiudendo Perché è Veramente Interessante In questo video Mostro Devo dire Che inizieremo Subito A fare video E di iscrivervi Al canale Che siamo già arrivati A 1300 iscritti Incredibile Incredibile Dunque Iscrivetevi Che gli iscritti Mancano E non è vero Però Siamo contenti Dei nostri iscritti E un grande bacione A quelli Che ci sono già Iscritti E vi Ringraziamo Quelli che si iscriveranno Ecco E del sostegno Che ci dà Atamo Ciao Un bacio Riccardo Zanutto Per l'idea Ciao Ciao